50 ore sotto il lago. È il record che sta cercando di conquistare il sub Danilo Bernasconi a 10 metri di profondità nelle acque di Faggeto Lario. Il conto alla rovescia per la fine dell'impresa terminerà poco prima delle 11 di domani mattina e nelle 50 ore di immersione Bernasconi fa tutto sott'acqua. Mangia, beve, riposa, fa stretching e per passare il tempo gioca a dama e chiacchiera con altri subacquei che si immergono a rotazione per tenerli compagnia. L'obiettivo, come detto, è trascorrere 50 ore a 10 metri di profondità adagiato su una piattaforma al lido di Faggeto Lario. In superficie anche uno staff medico che controlla costantemente le condizioni di salute del subacqueo. Tanti curiosi e amici di Bernasconi stanno assistendo all'evento. Chi non potesse passare da Faggeto potrebbe comunque seguire l'impresa via internet all'indirizzo www.progettolago360.it, il portale dedicato al record e attiva una webcam subacquea che permette di vedere in diretta streaming le gesta di Bernasconi.